Da oggi BIS, bellezza e salute, coniuga qualità e convenienza, prezzi scontatissimi su prodotti per uomo e per donna. Dolce Gabbana Light Blue per uomo da 75 ml a 29,50€. Versace Purom da 50 ml a 34€. Dior Dolce Vita per donna da 100 ml a 63,50€. Prada Infusion Diris per donna da 100 ml a 47,50€. E da 50 ml a 39,50€. Non perdere neppure un attimo, vieni e codi l'occasione, ci trovi ad Avola in Via Maoceri 50 e in Corso Vittorio Emanuele 71 all'interno della Galleria di Palazzo De Masi. E a Noto in Via Zanardelli 7, di fronte alla posta centrale. BIS, i prezzi scontatissimi ma solo per pochi giorni.